Il portiere nisseno Simone Loguasto si conferma colonna della Pallamano Enna, una delle realtà più blasonate in Sicilia e non solo, che può vantare quattro promozioni in serie A1 e perfino una partecipazione ai quarti di finale della Pool Scudetto nel 1999, proprio l'anno in cui è nato Loguasto, che è cresciuto a Caltanissetta ed è stato confermato in maglia giallo-verde anche per la prossima stagione. La sesta di fila nella società ennese è quanto annuncia la società Pallamano Enna attraverso il canale social di Facebook, evidenziando che Loguasto farà da chioccia al tandem giovanissimo di Guardapali, Sebastian Avram del 2005 e Sebi Coppola del 2002. Simone ormai fa parte in pianta stabile della nostra famiglia, fa sapere il vicepresidente Luigi Savoca attraverso la pagina ufficiale della società, sottolineando che nonostante i suoi molteplici impegni professionali, non ha mai fatto mancare l'impegno e il suo contagioso entusiasmo. Il trio di portieri Avram, Coppola e Loguasto verrà seguito dagli allenatori Paolo Biondo e Andrea Bongiovanni. Ho cominciato a giocare a Pallamano a 13 anni con la nova Audax Caltanissetta per poi proseguire nel 2017 con la Pallamana Enna. Ci siamo tolti diverse soddisfazioni nell'ultimo anno, siamo stati sempre ai vertici della classifica e ci siamo tolti anche qualche soddisfazione con i primi della classe, uscendo dignitosamente da ogni partita. L'obiettivo è sempre quello di far bene, di divertirci, chiaramente ancora non si può definire quello che sarà il campionato in sé perché ancora noi non siamo al completo, le altre squadre non sono al completo, quindi è difficile fare una prospettiva futura di quello che sarà il campionato. Sicuramente a livello individuale io ci metterò tutto il mio impegno e spero anche di dare un bel contributo alla squadra.